Bentornati in diretta da Radio Design con il nostro format Wine Design, la radio che racconta il vino, con la sommelier Spigreli e con Nicola, il nostro docente di web marketing dell'istituto. Oggi mi verrebbe da dire, benvenuti a tutti, siamo serissimi, mi verrebbe da dire che abbiamo una puntata off topic, però non è così, siamo gloriosamente in tema, perché grande ospite oggi è il nostro birraio mastro di birra dell'eromo Enrico Ciani, che ci ha portato la sua birra Genesi, che è una birra fatta, prodotta secondo il metodo classico, quindi dopo la degusteremo, parleremo molto della tecnica di produzione di questa birra, quindi seguiteci, restate connessi perché è una puntata molto interessante su una birra artigianale Umbra. E io, oltre il benvenuto Enrico, parterei subito con la prima domanda, che è quella un po' di raccontarci qual è la realtà di birra dell'eromo, e portando proprio una tua citazione, che è il birraio a fare il mosso, ma è il lievito a fare la birra, quindi ti passo parola e bentornato, cioè benvenuto ancora con noi. Grazie, sì, questa è una cosa che non ho detto io, ma viene riportata spesso su vari testi di approfondimento di birra, e diciamo un'affermazione che condivido perché il lievito è una parte fondamentale della produzione di birra e secondo me caratterizza in modo forte il prodotto. Mila dell'eromo nasce circa sette anni fa ad Assisi, racconto brevemente quello che è il mio background, io mi sono laureato alla facoltà di agraria a Perugia nel 2010, e diciamo i miei studi si sono, nell'ultima parte dei miei studi, si sono concentrati proprio sulla produzione di birra, perché sono entrato a far parte del CERB, che è il Centro Eccellenza Ricerca sulla Birra, che è una sorta di spin-off della facoltà di agraria, che tratta solamente birra. La mia passione viene, diciamo, si parte un pochino prima, ma questo spin-off mi ha dato la possibilità di approfondire quelli che sono, che erano e sono i miei, diciamo, che è la mia passione. Sì. E che altro? Beh, io a questo punto, dato che sei partito anche con la tua formazione, i tuoi studi, mi verrebbe proprio da dire, di approfondire il fatto che hai sempre avuto questa curiosità, questa innovazione, questa rivoluzione anche del modo di fare la birra artigianale. E vorrei porre l'accento su quello che è la tua nuova serie di birre, la Non Conventionalize, cioè quella fatta con i lieviti non convenzionali, e ti prego, dici i nomi dei lieviti in diretta, perché io lo adoro. Tra l'altro ho assaggiato qualche giorno fa Talia, giusto? Ed è buonissima, fresca, questo rimando allo zest, che veramente molto, molto, si fa bere facilmente. E quindi, ecco, parlaci di come sei arrivato a questo progetto, come l'hai sviluppato, della ricerca su 500 ceppi di lieviti, ragazzi. Non è che siamo, ecco, non è stata una ricerca a caso. E, diciamo, dei tuoi studi partiti anche dall'Università delle Marche, che forse è anche il collegamento con Genesi. Esatto, detto benissimo. Allora, il progetto nasce ormai sei anni fa, quindi diciamo che è proprio agli albori della nascita del birrificio, perché eravamo in collaborazione con il Politecnico delle Marche di Ancona e stavamo lavorando un po' sulla ricerca in questi lieviti che potessero caratterizzare in modo deciso le birre. E quindi stavamo facendo una ricerca, abbiamo fatto diverse selezioni, diversi solamente di lievito sia in birrificio ma anche al di fuori, e lo abbiamo fatto e quella parte di lavoro è andata molto bene. Se non che a un certo punto, insieme alla dottoressa Laura Canonico, abbiamo fatto un lavoro, diciamo, abbiamo cercato di rendere le cose anche un pochino più complesse, però cercando di trovare una soluzione anche più impattante sul profilo delle birre, e l'abbiamo fatto appunto cercando questi lieviti non più all'interno del birrificio o da un isolamento, ma prendendo questi lieviti direttamente dalla ceppoteca. Questo ci ha dato la possibilità di scegliere tra tantissimi ceppi di lievito cerevisie, ma soprattutto non cerevisie. E questo ci ha fatto pensare proprio di creare delle birre che appunto non usassero i classici lieviti, il classico lievito da birra, che sia cerevisie o pastorianus, ok, sia alta o bassa. Ma abbiamo detto, cerchiamo qualcosa di diverso, abbiamo ragionato su quella che era la scelta in ceppoteca, abbiamo visto che in bibliografia non c'era una, diciamo, non c'era una grande bibliografia su quello che riguarda in un conventional. Sì. E quindi abbiamo attinto proprio da questi, abbiamo detto, se facciamo delle birre, possiamo anche farci dei lavori anche accademici, perché no? E quindi Laura Canonico ha portato avanti anche questo tipo di lavoro, che poi l'ha portata a lavorare a diversi altri, diciamo, studi, sempre inerenti a questi lieviti. A questo punto abbiamo detto, prendiamo questi lieviti, però chiaramente, essendoci bibliografia, abbiamo detto che cosa facciamo? Dobbiamo metterli, provarli. Sì, certo. Quindi all'atto pratico abbiamo preso, siamo partiti da circa più di 500 lieviti, tutti non convenzionali, abbiamo iniziato a metterli tutti in mosto di birra. Sì. Abbiamo fatto 500 prove, abbiamo visto di questi 500 che solamente una decina, 12-13 se non ricordo male, avevano la capacità di consumare gli zuccheri del mosto di malto d'orzo. Quindi già abbiamo fatto una bellissima scrematura di questi. Da 500 a decina, ecco. A questo punto però dovevamo trovare, tra questi 12-13, dovevamo trovare quelli che avevano poi un profilo idoneo. Performante. Sì, performante. Comunque avessero una caratteristica peculiare, particolare, che potessero mettere in risalto una determinata birra. E di queste abbiamo, fortunatamente, perché devo dire anche fortunatamente, perché... Era una sfida. Era una bella sfida, potevamo anche trovare zero lieviti. Cioè. In realtà ne abbiamo trovati tre molto caratteristici, di cui uno sostanzialmente molto molto interessante a livello anche, diciamo, di studi, perché abbiamo trovato questo lievito che durante la fermentazione produce acido lattico. Sì. Molto interessante perché producendo acido lattico abbassa il pH. Abbassando il pH crea questo profilo leggermente sour, adesso vengono chiamate gentle sour, queste birre, perché hanno questo profilo molto delicato, però un accento di acidità. Quindi abbassano il pH e rendono queste birre leggermente acide, che aumentano la facilità di beva. Sì. E poi abbiamo trovato, questo lievito si chiama Cluivero Mice a Thermo Tolerance. Bellissimo. Sì, forse è il più carino, il nome è fighissimo. Tra l'altro uno di questi viene dall'Africa, cioè l'ha stato trovato su una pianta. Sì, no, e questo è il bello perché il passo successivo che c'è stato è stato proprio quello che dice lo troviamo nel birrificio oppure intorno al birrificio oppure in un ambiente diciamo vicino al birrificio, però l'isolamento c'è, se ne trovano tanti, ma se noi pensiamo a quelli che si possono trovare all'interno di tutto il pianeta, diciamo che si può avere una grande varietà, no? E quindi abbiamo fatto proprio questo, la ceppoteca aveva questa caratteristica, cioè di avere dei lieviti da tutto il mondo. Perché? Che succede? Questi professori sostanzialmente si passano i lieviti, è proprio come si fa un po'... Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho spazza. Esatto, è uno spaccio, è uno spaccio classico. Beh, io ho uno scambio di carte. Spaccio con un metodo classico. E quindi, niente, c'è questo passaggio perché magari qualche professore è più, diciamo, abituato a lavorare con determinati lieviti. E quindi, che succede? Alla facoltà del Politecnico delle Marche era arrivato questo cluveromices, il cluveromices in Italia, dall'Italia, mentre la torula invece ha un lievito che proviene dal Camerun, nello specifico è stato isolato da una foglia di papaya. Ah! Queste sono tutte cose, diciamo, curiosità, piccole curiosità. Ma, grandi curiosità, perché questi lieviti performanti, no, come l'abbiamo definiti prima, danno anche il carattere alla birra stessa. È un carattere che fa in modo che abbia comunque un pubblico vasto, che non sia quella birra così particolare da essere ricercata da una nicchia. Invece Italia è particolare nel suo carattere, ma sicuramente riesce ad incontrare il gusto, il piacere di un pubblico vasto, che può essere il ragazzo o la persona un po' più formata nel mondo delle birre. Sì, perché in realtà quello che abbiamo poi fatto è stato cercare di produrre delle birre comunque con una beva, diciamo, dalla beva facile, perché comunque non potevamo rendere queste birre troppo complesse. Già hanno un profilo, diciamo, diverso dalle altre. E quindi dovevamo cercare di inserirle in un contesto magari un pochino più semplice, più facile. E l'abbiamo fatto mettendola, appunto, l'esempio Torula nella Dume, che è una, diciamo, blood orange white tail, quindi una sorta di vice, per mettetemi il termine, una birra di succo d'arancia, esatto, succo d'arancia rossa. Questo perché si crea sostanzialmente un profilo, perché la Torula ha questo profilo tipo vice, quindi con la produzione di esteri che danno romi, banana, chiodo di garofano, però, diciamo, abbiamo cercato di inserire il succo d'arancia per dare un po' di acidità. Di acidità, per bilanciare. Esatto, per bilanciare e dare un pochino più di bevuta, che è un po', secondo me, l'ostacolo di una classica vice, che ha un po' questo impatto un pochino dolcione, quindi abbiamo cercato di contestare la dolcezza con questa parte di acidità e quindi rendere la birra ancora più scorrevole. Fantastico. E siamo alla prima birra. E questa è la prima birra. Passiamo alla seconda. Poi abbiamo prodotto la Cora, che è una gose, è una gose al ibisco, abbiamo prodotto questa gose, quindi questa birra, questa tipica birra, diciamo, con un profilo sia salino, perché all'interno della ricetta si utilizza il sale per dare questa classica salinità alla birra e acidità. Chiaramente il clover mices è proprio quel lievito che dà acidità, quindi abbassa il pH e quindi crea questi profili acidi e quindi abbiamo cercato di sposare questo stile con questo lievito e abbiamo prodotto appunto questa cosa e abbiamo cercato di rendere un pochino più di impatto con l'utilizzo dell'ibisco, che amplifica le note floreali del lievito e crea questo colore molto invitante. Sì, perché... È proprio un viola. È un viola, è bello. È proprio viola, cioè proprio l'ibisco, proprio il pigmento dell'ibisco, per infusione appunto rende questa birra di color viola. È stato difficile riuscire a trovare l'abbinamento, passami il termine giusto, con l'ibisco, perché l'ibisco non è che è un fiore di tutti i giorni, magari uno pensa alla zagara, il fiore del limone, dell'arancio. L'ibisco è particolarissimo. L'ibisco è particolare, in realtà nel mondo della birra diciamo ci sono diversi esempi, diciamo che non è una cosa che ho inventato io, insomma che ho portato io nella birra, ma nella birra, devo dire, devo essere sincero, si utilizza perché ha queste note floreali molto importanti, questo colore molto particolare. Diciamo l'azzardo che ho inserito io è proprio inserirla in questo stile, dove effettivamente che io sappia non ce ne sono altri esempi. Quindi abbiamo cercato di rendere la cosa un pochino più diversa e originale, anche con l'inserimento dell'ibisco. Ma siete i primi in Italia a fare questa tipologia di birra? Sì, in Italia e da quello che so io, diciamo che birrifici nel mondo che producono birre con lieviti non convenzionali, sinceramente io non li conosco e sono appassionato, quindi un po' seguo il mondo. Dovresti sapere se c'è qualcuno che lo fa. Che io sappia, poi magari tutto può sfuggire, però che io sappia assolutamente no e sicuramente non c'è nulla in bibliografia, se non un paio di lavori brevissimi e cortissimi di approccio all'utilizzo di questi lieviti nella birra, ma poi non c'è stata nessuna prova, diciamo, tecnica specifica, definitiva e quindi abbiamo cercato di rendere questa cosa ancora più innovativa, di inserire questi non convenzionali nella birra. Fantastico. E la terza, Talia, che ho prima accennato? La Talia è una Saison che tra l'altro sta andando molto molto bene perché come dicevi te è una birra molto facile da bere, ha un'ottima secchezza grazie anche al lievito che appunto consuma molto facilmente gli zuccheri realmente scibili del mosto, quindi rende questa birra da un profilo molto asciutto e secco che appunto chiaramente facilitano la beva e ha questa, diciamo, questa aggiunta di bucce di zest di limone e camomilla, quindi diamo questa personalizzazione. Le Saison sono le classiche birre belga appunto da bevuta e tipicamente vengono speziate. La cosa bella di queste birre è che la speziatura generalmente è molto fantasiosa e diciamo ogni birraio inserisce il suo tocco e in questo caso noi abbiamo aggiunto queste zeste di limone e questa camomilla che rende molto floreale, molto primaverile questa birra. No, anche molto delicata. Delicata, assolutamente. E il nome del lievito è? Il Wicranomices Anomalus. Bellissimo. Potrei tatuarmelo, ti giuro. Vicino Bismilla, puoi scrivere... No, scusa, di qua ho il vino e di qua la birra. Ah, giusto, puoi scegliere. Ma qui quello io che sono quello ignorante, nonostante conosca più o meno il mondo... Però, cos'è lo zeste? Lo zeste è la parte, diciamo, la parte della buccia esterna, del limone, diciamo, la parte gialla. Lo sapevo, era giusto per fare un test. Vorremmo vedere se era pronto. Se dite le cose tanto per, siete veramente esperti. Ma se ci vengono in giro, dai. No, non lo sapevo. Le sue domande sono molto sempre attente, intellettuali, aprono molti confronti, no? Sono un poeta, sono un poeta. Romantico. Sempre. Senti, come si pone invece il mercato delle birre artigianali in generale, però anche proprio di birre dell'Ermo nel circuito sia italiano che internazionale? Allora, io posso dire come, diciamo, come birra dell'Ermo si affaccia al mondo della birra? Cioè, quali sono state le nostre scelte? Perché, ecco, fortunatamente abbiamo potuto scegliere un po' qual è la direzione da prendere, diciamo, per aggredire il mercato e entrare nel mercato. Noi abbiamo deciso di lavorare, produrre innanzitutto un prodotto di alta qualità. Quindi cercare di alzare un po' l'asticella. L'asticella, esatto. Lavorare sempre in freschezza, lavorare sempre con prodotti di prima qualità, rendere le birre più gradevoli possibili, cercare anche di produrre delle birre magari lì per lì non facilissime, però in un secondo momento magari che potessero, diciamo, prendere quel settore di mercato magari un pochino più di nicchia. Quindi abbiamo scelto di lavorare con i locali specializzati, sostanzialmente. locali specializzati dove sappiamo che ci sono dei publican o comunque delle persone dietro al bancone o nel locale che sanno parlare di birra e sanno lavorare il prodotto. Masticano proprio il mondo della birra. Ecco perché non lavorate in GDO. Esatto, abbiamo deciso, abbiamo fatto questa scelta di non lavorare in GDO perché ci sono tanti pro, ma noi troviamo che ci siano soprattutto dei contro, quindi parlo della gestione delle birre, quindi il controllo appunto, non ci sono celle fredde per le birre, cosa che per la birra artigianale è molto importante perché stiamo parlando sempre di un prodotto non pastorizzato e non filtrato, quindi la catena del freddo è molto importante. E comunque anche la gestione stessa, quindi il turno delle birre, quindi quanto vanno via nella scaffale, dove sono inserite uno scaffale, se ci sono faretti puntati, insomma ci sono tante piccole accortezze che vanno prese. E la GDO purtroppo magari in alcuni casi fanno i numeri, ma non tengono troppo conto della qualità. Esatto, esatto, e quindi abbiamo fatto una scelta. Spieghiamo per ignoranti cosa vuol dire publican, perché non è un termine molto comune. Il publican è diciamo il colui che gestisce un pub, sta dietro al bancone, oppure comunemente gestisce un locale di birra. Però che ne capisce, nel senso... Sì, spero che sia un legame stretto, ma ecco generalmente sì, assolutamente. chi diciamo vende birra artigianale solitamente mi auguro, ma diciamo... Si spera. Si spera, io diciamo... Questo è molto positivo, quindi ecco, il publican per me è comunque sì, la persona che ne sa, è esperta, che lavora il prodotto, ma che comunque lo conosce. Sì, ma anche perché lo sa comunicare il prodotto, perché alla fine è facile vendere birra, voglio questa, voglio una fresca, voglio un'alta fermentazione, ecco lì te la vendo. Però la difficoltà, ma anche la bellezza di chi lavora al pubblico, è anche quello di saper comunicare un prodotto di alta qualità, che fa la differenza. Assolutamente, e io, guarda, hai toccato un punto, secondo me fondamentale, diciamo del momento del mondo della birra artigianale, cioè ci troviamo in un momento in cui chi può far veramente la differenza è il publican, cioè chi riesce a portare nuovi consumatori all'interno del mondo della birra artigianale sono proprio i publican. Fino adesso l'abbiamo fatto noi i birrifici, perché ci muoviamo tuttora, ma ci siamo mossi tantissimo, per fare serate, eventi, fiere, manifestazioni e quant'altro. Ora diciamo che sono nati tantissimi locali di birra artigianale, quindi si sono anche radicati nel territorio, quindi sono loro adesso che devono fare la differenza e portare nuovi consumatori, perché il mondo della birra sta crescendo, fortunatamente, sta ancora crescendo, il problema è che il consumo pro capite, diciamo che è sempre lo stesso, quindi per aumentare i consumi, visto che stanno nascendo anche tanti birrifici, l'importante è che il publican porti nuovi consumatori, quindi faccia conoscere questo mondo a nuove persone che si affacciano ora al mondo della birra artigianale, quindi portarli dentro e fargli capire che cos'è la birra artigianale. Quindi perché è importante? Perché il publican deve far assaggiare e deve proporre il prodotto di qualità, perché altrimenti la cosa che succede spesso è che si scambia birra artigianale come birra di qualità, in realtà io non la penso così, cioè la birra artigianale è di qualità se è di qualità. Certo, non perché ha il nome qua artigianale. Esatto, quindi è importante che il publican faccia capire questo, cioè birra artigianale va benissimo, ma deve proporre la birra di qualità. Certo, quindi non il bere tanto, ma il bere consapevole, cioè sapere quello che si sta bevendo e quello che c'è dietro, insomma. Vedo Nicola che ha una domanda negli occhi. No, è come, diciamo, il tavernello che è inteso come vino, ma... Bip! Cominciamo con i nomi dei brand. Vabbè, il tavernello è stocanato, insomma, c'è bisogno di spiegare che il tavernello non sia proprio... No, beh, allora sì, il confronto è quello, no? Il fatto di bere un vino che magari è di facile beva, è un vino da tavola, un vino che può essere bevuto, insomma, in diverse fasce d'età, è un vino invece che ha una filosofia dietro di lavorazione, è un processo che può essere anche quello biologico, no? che fa la differenza, l'attenzione alle uve che fa un grande vino e qui c'è anche il peso economico che viene a differenziare magari un cartone di vino da un euro, per dirti, e una bottiglia di vino da dieci euro. È lo stesso discorso su... Eh, infatti, no, faccio questo parallelismo perché... Anche con la birra. Diciamo che l'analogia è più o meno simile nel mondo della birra, ma... Certo. ...ha bisogno di spiegarlo, no? Sì, 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 sono due mondi, diciamo, che sono accumulati da tanti aspetti e a livello commerciale è uno di questi, insomma, il vino chiaramente ha delle radici profonde nel nostro territorio, quindi ha dei... Diciamo, è molto più avanti per determinate cose. C'è due mila anni di marketing in più. In più, esatto. La birra è un... Soprattutto la birra... Io parlo del mondo craft, chiaramente, perché la birra, come si intende, è classica, diciamo, ha anch'essa tantissima storia, ma, diciamo, la birra, come la intendiamo oggi, la rivoluzione della birra, come la intendiamo oggi, cioè nel mondo craft, è iniziato negli anni 70, 80, insomma, ecco. Sì, quindi sempre prima molto, tra virgolette, artigianale, no? Sì. È vero, non c'è nel vostro catalogo la trappista. Non è una cosa facile da fare, mi sa. No, per birra trappista... Però io la voglio. Per birra trappista bisogna... Cioè, io non potrei produrre una birra trappista, cioè ci sono dei, diciamo, dei restringimenti, dei paletti molto, molto stretti. In realtà, fino a poco tempo fa, al mondo ce n'erano solamente sette. Sì. Adesso, negli ultimi anni, sono crescendo, è nata anche una in Italia, quindi, devono avere dei... Adesso non sto qui ad annoiare, però devono avere dei paletti ben stretti. Come la DOCG o la DOC di un vino, insomma. Ci sono delle limitazioni territoriali, di tecnica, per poter produrre, poter dire quel vino è... Esatto. Addirittura, diciamo, la trappista non deve... Cioè, tutti i guadagni che ci sono devono rimanere all'interno della bazzia, quindi è una cosa abbastanza... Esatto. Abbastanza, diciamo, ristretta e complessa, sì. È un po' cooperativa, però, della birra. Cioè, che devi ritornare, rimane tutto. Vabbè, esatto. Entriamo in discorsi troppo... È bellissimo questo mondo. Dopo lo affronteremo. Assolutamente. No, che sono cose anche molto interessanti, insomma. Invece con il mercato internazionale? Mercato internazionale, diciamo, noi abbiamo cercato di interagire dall'inizio con il mercato internazionale, quindi cercare di proporre la birra, il nostro brand nel mondo. e quindi abbiamo partecipato innanzitutto alle fiere di settore che potessero darci dei contatti e quindi contatti esteri. Lo stiamo facendo tuttora, quindi siamo arrivati addirittura a un 25% del fatturato, che chiaramente è un po' altalenante, perché non è di facilissima gestione, soprattutto per un'azienda giovane come la nostra, però diciamo che ha sempre un'ottima fetta del nostro fatturato, perché ci puntiamo, facciamo le fiere anche all'estero, parlo di Pechino, parlo di Düsseldorf, parlo di... non so, all'estero abbiamo fatto due in Cina, una, insomma, a Düsseldorf, quindi ci muoviamo perché sappiamo che per prendere il mercato estero bisogna sia lavorare bene in Italia ma anche muoversi. Quindi un occhio all'Italia e un occhio all'estero. Sì, in questo momento stiamo lavorando con diversi paesi, parlo di Svezia, Norvegia, Finlandia, parlo di Russia, Cina, Australia, Svizzera, Perù, California, stiamo iniziando adesso in Texas, quindi ci muoviamo, stiamo cercando di fare... Poco, vi muovete poco! Il prodotto inizia a muoversi un pochino, sì, sì, sì. Senti, invece tornando in Italia, in particolare a Firenze, c'è una novità, che, beh, novità ormai ha due mesi di inaugurazione, che è il Brew Pub di Firenze, con le birre artigianali di birra dell'Ermo, insomma, che sono lì a Firenze, vengono prodotte in loco, ed è una novità assoluta per la città di Firenze. Sì, assolutamente, grazie a, diciamo, siamo riusciti a entrare in sintonia con alcune persone che reputo veramente persone in gamba, con queste persone abbiamo creato, abbiamo fatto questo progetto molto interessante, cioè quello di creare un punto al di fuori della regione, quindi al di fuori dell'Umbria, quindi abbiamo scelto Firenze, un punto, il punto vendita forse è un po' bruttino, però è un punto dove far conoscere birra dell'Ermo con costanza al di fuori dell'Umbria. Sai, il mondo della birra craft è molto, gira molto, c'è tantissima rotazione dei fusti e delle spine all'interno dei pub, quindi avere un punto dove sapere che lì c'è sempre birra dell'Ermo, secondo me è un punto di riferimento, un punto fisso, e quindi abbiamo cercato di fare questo. Contestualmente, diciamo, c'è stata la possibilità di prendere questo locale che aveva già un impianto di produzione all'interno, quindi è un brew pub a tutti gli effetti, e in questo momento ancora non siamo riusciti a far partire l'impianto perché abbiamo ristrutturato il vecchio che è stato allestito lì, montato lì nel 99, quindi parliamo degli albori della birra artigianale italiana, quindi è stato il primo brew pub in Toscana, è uno dei primi brew pub addirittura in Italia, e quindi abbiamo cercato di risistemarlo, aggiustarlo, insomma, rimetterlo a nuovo, e quindi abbiamo questa possibilità di produrre la birra che a breve riusciremo a fare. Bello, anche perché so che lo mostrate anche al pubblico poi il poter vedere la produzione, anche perché se non ricordo bene in vetrina proprio. In vetrina, proprio si vede passando dalla strada, tra l'altro è un locale molto molto bello, è di passaggio, su una posizione secondo me stupenda, al punto, diciamo, a un dehors fuori molto grande che è molto difficile trovare in Firenze, e ecco, soprattutto uno dei punti forti è anche la cucina, devo dire la verità, perché una delle persone con cui abbiamo fatto il progetto è veramente, veramente capace sotto questo punto di vista, lui si definisce un cuoco, adesso non so come, però se è un cuoco è un cuoco veramente, adesso non so le definizioni tra chef o cuoco, quello che sia, però è veramente, veramente bravo. Confermo. Bomber, si dice bomber. Bomber, top. Un bomber, un top level, è veramente bravo, e quindi ha fatto un menù vario, diciamo, ben preciso, quindi ha cercato di unire, studiato, ha cercato di unire il mondo birra al mondo cibo, quindi con degli abbinamenti, proposte interessanti, veramente, si mangia veramente bene. Bene, bene, quindi una bellissima realtà che incontra l'Umbra e la Toscana. La Toscana. Io direi di affrontare è il motivo per cui siamo qui seduti. Ma infatti in scaletta siamo perfettamente, sei perfetta, procedi. Parliamo finalmente di Genesi, che è questa fantastica birra che io ho degustato ieri, tutti hanno visto che io ieri alle 4 ho aperto la birra. L'hai abbracciata fino alle 9 di sera? No, fino alle 2 del mattino, più o meno. Sì, 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 sì. È un Italian Grey Pale che per definizione è una birra che incontra il mosso d'uva e il malto, ma un mosso di luppolo, che è stata inventata, se non erro, in Sardegna da un brifecio della Sardo, insomma, Nicola Perra, se non erro. Sì, diciamo, lui è stato uno dei capostipiti, pionieri, perché, non, stare virgolette, non consapevole, perché chiaramente non c'era una definizione, la definizione di Italian Grey Pale e quindi come stile riconosciuto a livello internazionale è nata dopo, quindi già c'erano delle birre, insomma, con l'inserimento di mosso di vino. Ok. Qui in Umbra ci sono tanti birrifici che utilizzano il mosso di Sagrantino, il mosso di Greghetto, voi utilizzate il mosso di Verdicchio e sei di collega anche agli studi che hai fatto con l'Università delle Marche. Poi ti chiedo anche perché il Verdicchio, perché il nome Genesi è l'etichetta bellissima, però, ecco, io volevo focalizzarmi sul fatto, sul punto particolare, questo è un metodo classico, cioè utilizza comunque un metodo già difficile di suo per fare un vino spumante e quindi volevo sapere il passaggio diciamo punto per punto di produzione di questa birra e la scelta di mettervi sul mercato in questo modo difficile, ma ho capito che vi piacciono le sfide. Sì, assolutamente. Assolutamente, Enrico vuole sfidare tutto e tutti. Sì, sì, sì. Enrico sfida Cianni si chiama, infatti. Enrico sfida Cianni. La prossima puntata. Ok. Perché allora... Intanto la facciamo vedere. Non so dove. Sì, un po' qui, un po' di là. Sì, vai, poi la facciamo vedere. Intanto vuoi raccontare. Sì, diciamo che perché innanzitutto perché Genesi e forse tramite il nome riesco a spiegare anche molto sia un po' del mio percorso e un po' anche della birra stessa perché diciamo fin da piccolo allora mio padre ha questa cattedra in microbiologia proprio al Politecnico delle Marche che è l'istituto con cui collaboriamo e diciamo l'approccio al buon bere al bere slow comunque il prodotto di qualità ma soprattutto anche la creazione di un prodotto che è un po' una cosa che mi ha sempre affascinato cioè cercare di creare qualcosa proprio con le proprie mani sì è stato proprio diciamo il motivo per cui diciamo mi sono avvicinato al mondo della birra cioè mio padre tramite questa cattedra lui ha studiato per tantissimi anni lo fa tuttora spumanti prosecco soprattutto spumanti ma anche parlo di sempre tutto inerente al mondo dei lieviti quindi alla microbiologia parlo anche di Sagrantino chiaramente perché avendo lavorato anche molto tempo qua a Perugia alla facoltà di agraria ha studiato anche a Sagrantino chiaramente però aveva questo diciamo questo questo debole per appunto i vini spumante sì e quindi che cosa faceva era una sorta di appassionato del mondo e se lo portava al lavoro se lo è portato sempre a casa e quindi si era costruito questa cantina quindi questa sorta di sì di cantina a temperatura controllata quindi mi ricordo tutta coibentata era un lavoro da Eliana pure ce l'ha e sta rosicando però vedo la faccia che è rosica fantastico sei cresciuto a pane e lievito praticamente sì perché io sostanzialmente mi ricordo fin da proprio piccolino piccolino che mio padre andava lì ogni domenica e andava a stappare una birra di una bottiglia di spumante perché ogni bottiglia di spumante era prodotta con un lievito diverso bellissimo bellissimo quindi che cosa faceva per la domenica si mangiava tutti insieme e quindi si apriva questa questa bottiglia oggi che vino bevo oggi che lievito bevo che lievito che spumante tutti i vitigni diversi quindi c'era soprattutto la cosa che mi ha colpito fin dall'inizio era la gestualità cioè lui andava ad aprire sostanzialmente faceva questa sboccatura faceva la volée quindi senza l'utilizzo romantica questa cosa si proprio andava ad aprire così e andava a tappare con con un un tappo in lipper di proprio col tappo fatto apposta per lo spumante però quello in silicone e lo portava a tavola quindi sostanzialmente faceva la la sboccatura e si beveva senza affinamento però era solamente per capire quello che era il profilo e sostanzialmente poi lo faceva assaggiare tutti mi ricordo fin da piccolo che faceva assaggiare un po' tutti e prendeva dei consigli attraverso un po' attraverso tutti insomma che bella infanzia tu facevi degustazione già a nove anni praticamente sì per quello che potevo fare bambini non replicate sicuramente dopo ho iniziato a bere in modo più sostanziale e consapevole però lì per lì insomma vedevo ammiravo la gestualità insomma che si faceva sempre riguardo andavamo su questa cantina andava si apriva e si portava in tavola e questo veniva fatto ogni maledetta domenica maledetta ogni santa domenica ogni santa domenica e non lo fa più adesso e adesso non lo fa più e porta le pire del figlio adesso dovrei portarle anche un po' più spesso mi fate sentire colpa però sì 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 e quindi e quindi si faceva questa cosa appunto per questo sostanzialmente è stata un po' una promessa che mi ero fatto quella che se avessi fatto appunto questo tipo di lavoro un lavoro inerente io mi sono inserito nel mondo della birra perché poi questo mondo mi ha trasportato mi ha affascinato però volevo far cercare di creare una birra spumante insomma è quello che che ho fatto e e l'abbiamo chiamata Genesi proprio per questo perché Genesi sta ad indicare proprio l'inizio del tutto certo ecco di come è nata un po' la mia passione per il mondo della birra vabbè un po' proprio l'inizio quando l'avete prodotta questa qui rispetto alle altre? questa parliamo del 2014 15 abbiamo iniziato a vendere il 2016 ecco quindi è relativamente giovane questa bambina e degustiamola sì ah l'etichetta invece? l'etichetta allora diciamo che abbiamo scelto questo è tutto un lavoro che è stato fatto appunto dal nostro studio grafico ha creato appunto l'etichetta le nostre etichette sono tutte quasi sono tutte in realtà meno le le riserva sono state fatte con l'utilizzo di di animali nella e quindi c'è questo questo illustratore che crea queste immagini quindi nessun riferimento biblico simile no sì all'inizio si era partito diciamo dal mondo di San Francesco visto che è da Sisi ah sì sì giusto poi si è diventato animali incazzati sì esatto si è perso un po' questa strada però ecco dopo abbiamo inserito animali magari un po' più vicini a noi ma oppure che potessero diciamo colpire un po' il marketing comunque perché tipo io il Jack Russell lunatica non mi manca mai a casa perché giustamente c'è un Jack Russell esatto abbiamo cercato quello ecco è il nostro cane quindi abbiamo cercato di metterlo metterlo in etichetta ma questo è il tuo corvo questo è il sì Enrico Ciania ha un corvo a casa un paico fa così senti allora questa bira visivamente adesso cercherò di farla vedere tanto l'ho fatta già vedere ieri come vedete è un bellissimo ambrato non lo definirei è un giallo dorato pienissimo la schiuma è poco persistente perché è tipica dell'alta fermentazione questa sì in realtà non tanto perché alta fermentazione perché utilizziamo qui dei lieviti da spumante sì ok che danno diciamo non sostengono abbastanza diciamo la schiuma questo lievito non entra tantissimo in diciamo in interazione con le proteine a catena lunga quindi non sorreggono una schiuma diciamo non si ha qui una schiuma bella compatta ma è molto evanescente insomma poca persistente evanescente appena versata era bella bianca cremosa schiumosa l'italiano bellissima e formava dei merletti i famosissimi merletti di Bruxelles molto molto eleganti all'olfattivo invece sì ci sta tutta il sentore agrumato io ci ho sentito anche passion fruit un sentore un po' di eucalipto rimanendo sull'erbaceo però ha anche le caratteristiche del verdicchio che ricordano un po' la la pera Williams o la mela Grammy Smith quindi belle acide croccanti è persistente il profumo diciamo il profilo olfattivo di questa birra è elegante è fine insomma ci si mette il naso più e più volte perché ogni volta mutano ogni volta cambia anche perché si sente tanto anche il mosto e ha questo rimando anche al lievito che però non è un rimando al panificio al croissant però io sento ancora per dirti il lievito crudo sai quello che quando impassi la pizza e senti quel sentore di lievito bellissimo elegantissimo a mio avviso mentre in bocca correggimi se sbaglio o c'è c'è qualcosa altro da aggiungere ha detto tutto no perché ieri l'incontro tra me e Genesi è stato lungo quindi penso che abbiamo chiacchierato tantissimo ci hai fatto un bel po' ieri guarda che l'ho finito da sola allora capisco che la chiacchierata è stata lunga però vedo anche profilo beh sì 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 invece al gusto olfattivo ha questa entrata leggermente dolce per poi avere quella amarezza tipica delle birre ma molto elegante molto avvolgente e un finale acidulo che anche qui mi ricorda molto quello del verdicchio con questa leggera mineralità questa avvolgenza bella moderata ed elegante anche qui ed è molto lunga perché io continuo a parlare con voi e ancora sento questo rimando un po' fruttato sesso della birra confermo da assolutamente molto lunga molto intensa molto molto complessa devo dire però allo stesso tempo anche ha un approccio anche facile perché comunque questa tutta questa frutta matura sembra quasi avere un filologico continuo cioè diciamo è complessa perché ha tanti sentori per esempio c'è tanta frutta quindi parliamo di albicocca anche frutta matura quindi pera come dicevi te mela molto diciamo lineare e allo stesso tempo complessa sì infatti ogni volta caccia un sentore nuca caccia che brutto termine sì però presenta mi ho scoperto che sei meridionale con questo non è vero Trentino Alto Adige è una brutto quindi ha un residuo zuccherino minore minimo 15 grammi litro a livello tecnico quindi fa tre mesi di maturazione in acciaio in bottiglia con i lividi spumante sì poi riposa un anno giusto in bottiglia e poi effettuate il remuage a mano o allora il primo lotto in realtà l'abbiamo fatto a mano ha fatto Nicola dici la verità sì sono anche sottopagato non ricordo ho visto come si fa però abbiamo fatto il primo proprio a la volée molto romantico bellissimo però quando abbiamo iniziato a raggiungere le 5.000 bottiglie quando è arrivata la tendinite la parte romantica che noi è venuta un pochino meno diciamo e quindi abbiamo chiamiamo un'azienda esterna che fa proprio l'atto della sboccatura l'ingresso dell'Iker d'Espedition e tappo succo e gabbietta quindi ci facilita il lavoro e fa questa parte finale della produzione tutto il resto viene fatto in birrificio quindi parliamo di remouage e tutta la parte prima dell'affinamento e la parte dopo il remouage quindi la parte anzi la parte prima del remouage quando per 8 mesi almeno rimane sdraiata esatto abbiamo due minuti e mezzo sì allora in due minuti e mezzo quali sono gli appuntamenti infatti quali sono gli appuntamenti di prossimi di birra dell'ermo allora diversi nel senso che il mese di maggio il mese di ormai è quasi il mese di maggio ma il mese di giugno è pieno 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 di eventi sinceramente non sono proprio la persona più adatta per ricordare a tutti gli eventi che facciamo posso dire quelli che farò nei prossimi quattro giorni che sono quelli che ricordo domani sarò a Gaeta per un evento una degustazione a Lengover il nome è un programma esatto speriamo speriamo che sia che sia vero e poi ecco che faremo questo evento dove faremo le degustazioni saranno tantissime birre chiaramente alla spina ma anche in bottiglia dove faremo una piccola degustazione delle non conventional poi saremo sempre verso il 30 domenica anche sono a Magliano Veneto sì saremo un po' al nord Italia vado giù salgo su ci sono 6-7 eventi in un mese ci ho visto io metto tutto interesse diciamo siamo belli carichi ma volevo arrivare un po' anche a un evento fondamentale che diciamo in anteprima in esclusiva vi sto per dire cioè che faremo il compleanno del birrificio il 22 e 23 di giugno presso il brewpub rione di Firenze via Pisana 2 sotto porta Sanfrediano faremo questo evento dove saranno invitati tantissimi birrai già sono stati invitati quindi tantissimi hanno già accettato dove verranno da tutta l'Italia dove stiamo organizzando per il 15 chi avrà voglia una partita di tutti insieme io ci sono perfetto 30 secondi per dire che ci saremo anche il 9 per un evento esclusivo solo per il sommelier e chiudiamo ricordandovi che vi potete iscrivere a questo podcast sostanzialmente ovunque Eliana poi manderà il link a GoGo è stato un sogno grazie Enrico è stato un sogno bomba top chiudiamo con questa degustazione alla ceca non sto scherzando solo da noi è stato un sogno ciao ciao a tutti ciao a tutti